Ben trovati a Toscana Lavoro Anteprima, erano 318, sono rimasti 252, sono sempre tanti i lavoratori della Bekaert che sono ancora in attesa, sono in attesa che qualcuno li rilevi e che riparta la produzione, la cosiddetta reindustrializzazione, sono anche in attesa dei soldi della Cassa Integrazione, finora non hanno visto un Euro. Chiamati dalla FIOM si sono fatti rivedere, hanno messo un'ossessione sul Ponte Vecchio, hanno fatto un presidio sotto la Prefettura, sono ancora una volta in attesa del prossimo incontro al Mise che ci sarà il 28 di marzo. Il punto è che noi da quell'ottobre del 2018 per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico e da dicembre del 2018 per quanto riguarda il Ministero del Lavoro che ha sottoscritto l'accordo, vorrei ricordare due ministeri retti dallo stesso Ministro, non abbiamo avuto più notizie né da parte aziendale né tanto meno da parte ministeriale. La storia è sempre quella, la precarietà nella scuola impera, parte gli anni scolastici, mancano i professori, ce ne sono tanti, non sono di ruolo, vanno pescati in giro un po' qua e un po' là, dicono basta i sindacati tutti insieme, tutti unitariamente alla precarietà, dicono anche, riaffermano che la scuola nel nostro paese deve essere una. Sulla Toscana per noi c'è un problema emergenziale che riguarda circa 9 mila posti in più rispetto ai 30 mila che normalmente sono dati in supplenza tutti gli anni nella regione toscana e agli 11 mila che costituiscono l'organico di sostegno relativo alle cattedre di sostegno. Questi 9 mila posti sono dovuti fondamentalmente a posti che non sono stati dati nella precedente tornata delle emissioni in ruolo e a quelli che eventualmente si vengono a produrre per effetto dei dimissionamenti e per i pensionamenti e la quota 100. Ma quale sicurezza? Il decreto Salvini è un vero e proprio disastro. Ha messo in condizioni peggiori delle precedenti tutti gli immigrati nel nostro paese, quelli che erano dentro gli sfarare e che vengono cacciati, ma anche quelli che aspettano perché ne hanno diritto la cittadinanza italiana, quelli che aspettano perché ne hanno diritto un ricongiungimento familiare. Di tutto questo si è parlato in CGL Toscana all'interno di una iniziativa di carattere seminariale. Quindi crea clandestini di Reto Salvini, crea insicurezza e crea aumento della percezione dell'insicurezza perché li raggruppa senza integrazione in grande strutture. Il Consiglio regionale ha fatto un gesto politicamente importante e a questo gesto diamogli la traduzione integrando le risorse perché la Toscana sia davvero la terra dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'accoglienza diffusa. Daniela Cappelli, la segretaria generale dello SPI CGL della Toscana, è diventata segretaria nazionale e l'ha eletta l'assemblea generale dello SPI su proposta del segretario nazionale Ivan Pedretti. Una intervista a Daniela Cappelli, non sarà l'ultima ovviamente, troveremo il modo di rincontrarla e però è una intervista di commiato dal ruolo in Toscana. Credo che questo risultato non sia soltanto mio, personale, penso che sia un risultato di tutta la struttura dello SPI, della Toscana, perché appunto come disse qualcuno, ognuno di noi da solo non vale niente. Ed è tutto per Toscana Lavoro Anteprima, vi abbiamo presentato alcune pillole, come sempre non vi accontentate, domenica alle 14 su Toscana TV, canale di sotto del Digitale Terrestre, i servizi. Buona visione.